Colpo grosso in casa Arcantea, palla canestro Luca. La società di Alfredo Susanna e Camilla Ricchio sta per ufficializzare il nome del nuovo general manager che salvo colpi di teatro dell'ultimo minuto dovrebbe essere Lorenzo Maruganti. Un nome che è una garanzia per quanto riguarda i piani societari che la proprietà dell'Arcantea ha sempre definito ambiziosi, senza mai nascondersi, anche quando le cose sono andate peggio rispetto alla stagione appena conclusa. Maruganti, senese 50 anni, è stato artefice assieme a Recalcati e Minucci della costruzione del progetto plurivittorioso della Menzana Siena. Nell'ultima stagione ha ricoperto il ruolo di direttore generale alla Tercas Teramo di Serie A1. Un nome insomma che lascia intendere che i rossi e i biancorossi per la prossima stagione potrà essere di assoluto livello per l'impegnativo campionato di divisione nazionale A, una DNA che dovrà essere affrontata con grande attenzione, anche e soprattutto in fase di allestimento del team, perché in prima squadra troveranno spazio almeno 5 under e sbagliare sui giocatori magari non ancora pronti per la categoria potrebbe risultare fatale, visto che per le prossime due stagioni succederà un vero terremoto nei campionati FIP con 24 retrocessioni in due anni fino all'assestamento del 2014.